E di qualche ora fa la notizia dell'imminente uscita di una nuova fotocamera della linea EOS, che sarà la Canon EOS R8. In questo video vi dirò perché sono molto ma molto impaziente che questa fotocamera esca sul mercato e perché sono veramente ansioso di tenerne una in mano. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi vi parlo di fotografia e video andando a prendere in esame l'ultima fotocamera annunciata da casa Canon. Si tratta di una fotocamera full frame che incapsula alcune delle caratteristiche di Canon EOS R6 Mark II, quindi una fotocamera eccezionale, la fotocamera che credo quasi tutti vorremmo, in un body più piccolo, un body che somiglia per certi versi a Canon EOS R7 o a Canon EOS RP. Vado subito a parlarvi delle specs di questa camera. Ovviamente non avendola in mio possesso posso solo elucubrare sulle specs ma posso dirvi una cosa. Ho già fatto qualche tempo fa un video su Canon EOS R6 Mark II ve lo lascio linkato in card in cui approfondivo diversi aspetti che valgono anche per questa camera. Andremo però a vedere quali sono le differenze che sono probabilmente quelle che vi interessano di più. Innanzitutto stiamo parlando di una fotocamera con un sensore da 24.2 megapixel full frame, quindi praticamente lo stesso sensore della R6 Mark II. Sensore fantastico, quindi qualità d'immagine favolosa. Su questo assolutamente niente da dire. La camera che tutti vorrebbero, me compreso. Ora su una macchina come questa a me la cosa che interessava più di tutte probabilmente era questa. Questa fotocamera registra video in 4k a 60 frame al secondo 10 bit internamente con il C-Log 3. Questo diciamo che è il graal del video per quanto mi riguarda. A me non interessa assolutamente il 6k RAW, l'8k RAW delle fasce più alte, non mi interessano assolutamente. E su questa camera infatti il 6k RAW non c'è o almeno a quanto pare a oggi non è stato inserito su questo modello. È una cosa di cui io sono contentissimo perché questa scelta rende per me molto più appetibile questa camera perché costa un po' di meno e mi hanno tolto delle cose che non usavo, mi hanno tolto delle cose che non mi servivano, quindi è molto più appetibile per me questa camera, è molto più appetibile di R6 Mark II. Ci sono dei motivi per cui probabilmente se dovessi scegliere oggi comunque prenderei R6 Mark II ma non è il 6k RAW, andremo a vederli dopo questi motivi, quindi seguite il video fino alla fine. Per quanto riguarda l'oculare e il viewfinder ovviamente abbiamo delle ottime caratteristiche ma lì non ve le sto neanche a dire perché queste personalmente sono specs che non guardo. Abbiamo comunque un oculare e un display ad alta risoluzione quindi vediamo bene se non benissimo. Abbiamo il Dual Pixel CMOS AF2 quindi abbiamo il solito sistema di messa a fuoco che abbiamo già visto, di cui ho già parlato nel video che vi ho già linkato sulla EOS R6 Mark II quindi da quel punto di vista veramente incapsula tutte le ultime caratteristiche dentro in un corpo macchina più piccolo. Ora per quanto riguarda la raffica, e qui a qualcuno di voi la raffica servirà, io non me ne faccio assolutamente niente. Ha una raffica che mi sembra sia abbastanza inferiore rispetto all'R6 Mark II per quanto riguarda lo shutter meccanico, per quanto riguarda lo shutter elettronico invece è uguale, quindi 40 frame al secondo, per cui ha comunque una buona velocità. Avremo tutti i problemi che abbiamo con lo shutter elettronico se scattiamo a quelle velocità, stessi problemi che avremo anche sulla R6 Mark II, però sulla R6 Mark II abbiamo nativamente uno scatto più rapido anche con l'otturatore meccanico. Poi abbiamo Movie Digital IS, Vertical Video Mode, quindi sono tutte delle integrazioni che ci aiutano in determinati campi ad avere anche una facilità di utilizzo, cosa che è sicuramente apprezzabile. Abbiamo il jack input per il microfono, abbiamo l'output per le cuffie, quindi possiamo fare monitoring di quello che stiamo registrando. Stesse identiche caratteristiche già viste su R7 e su R6 Mark I e Mark II, quindi da quel punto di vista non andiamo a perdere assolutamente niente. Una cosa che ho trovato molto interessante è che abbiamo una hotshoe digitale, quindi nel momento in cui andremo a innestare sulla hotshoe delle componenti dell'ecosistema presumibilmente Canon, forse prima o poi anche di terze parti, ma prevalentemente Canon, nel momento in cui andremo a innestare delle componenti sulla hotshoe che hanno l'abilitazione alla lettura digitale avremo per esempio un microfono che si interfaccia direttamente con la fotocamera senza bisogno del cavo, quindi questa è una cosa molto figa secondo me. Nel momento in cui andiamo a utilizzare un microfono compatibile non abbiamo più bisogno di avere fili in giro, ma abbiamo il microfono che si interfaccia direttamente tramite la hotshoe digitale. Molto bello, questa è un'ottima idea, mi piace molto. Ora per come è stata impacchettata questa fotocamera sembra veramente essere una EOS R6 Mark II in miniatura, un po' più piccolina perché comunque è un po' più piccola, proprio visibilmente più piccola, le manca il joystick per esempio, le manca il doppio card slot, quindi hanno tolto un po' di cose. Vi dico qual è per me il vero deal breaker, la vera motivazione per cui io potrei pensare di volere comunque la EOS R6 Mark II? La batteria, sì, perché ovviamente nel momento in cui devono fare un corpo macchina di questo tipo devono togliere qualcosa per mantenere il costo più basso, quindi vanno a servire una fascia di pubblico che non può permettersi o non vuole permettersi la R6 Mark II e quindi vanno a far costare di meno il corpo macchina e come lo fanno? Sottraendo delle componenti, quindi per esempio hanno tolto la stabilizzazione nel corpo macchina che su R8 non sarà presente, quindi se abbiamo delle lenti stabilizzate ce la si cava lo stesso, però è importante saperlo, non avremo la stabilizzazione nel corpo macchina, quindi per esempio alcune funzioni che io tanto ho decantato sulle mirrorless, come per esempio la possibilità di andare a far lavorare insieme lo stabilizzatore nel corpo macchina e lo stabilizzatore sull'ottica, ottenendo quindi una stabilizzazione veramente da astronave, non sarà possibile su questo modello. Un'altra cosa che non so ancora è se ci saranno le modalità di false color su R8, questa è una cosa che ancora non so perché non sono ancora state rilasciate tutte, tutte, tutte le specs, quindi questa è una cosa che non ho ancora visto, se qualcuno lo sa scrivetelo nei commenti perché lo pinno in alto, questa è una cosa che interessa a me ma interessa anche a molti, secondo me è molto probabile che ci sia, perché da quello che ho visto, e questo è interessante, da quello che ho potuto vedere, quindi ho visto delle recensioni di altri colleghi qui su YouTube, ho visto delle specs online, mi è arrivata la newsletter di Canon con la pagina dedicata, quindi ho visto quello che sono riuscito a vedere, ma alcune informazioni ancora mi mancano, ma quello che ho visto è che sembra che il menu sia completo, quindi il menu di lavoro della fotocamera sembrerebbe essere completo e dare tutte le stesse possibilità della R6 Mark 2, quindi secondo me c'è il false color su questa camera, è un'ottima cosa perché significa che possiamo andare a lavorare in una maniera completamente diversa. Ora, per chi è questa fotocamera? Cerchiamo di andare un po' a tirare le somme. Fondamentalmente qui stiamo parlando veramente di una Canon EOS R6 Mark II in miniatura, quindi sostanzialmente ha le stesse modalità di output dei file finali, quindi abbiamo la stessa identica qualità tolto il 6K RAW, che credo che alzi la mano chi stava usando il 6K RAW, secondo me non lo usa nessuno, quindi tolto quello fa esattamente le stesse cose con la medesima qualità. Ovviamente va a servire una fascia di mercato un pochettino più bassa rispetto alla EOS R6 Mark II perché costa di meno. Infatti il prezzo di lancio dichiarato è di 1499 dollari. Ora noi sappiamo benissimo che quando arriverà in Italia ci sarà un ricarico, per cui io mi aspetto, mi aspetto di vederla a 2000 euro. È anche possibile che salti fuori a 2003 secondo me, perché ormai non mi sorprendo più di nulla, però indicativamente secondo me la metteranno fuori a 2000 euro. Così costerà di più della Canon EOS R7 perché comunque la fascia di mercato non è proprio quella e vi spiego perché non è proprio quella. Nonostante il menu sia lo stesso, quindi attenzione, anche la messa a fuoco dovrebbe essere esattamente la stessa della EOS R6 Mark II, quindi un sistema di messa a fuoco pazzesco di cui ho già parlato nel video sulla R6 Mark II. Nonostante appunto il menu sia tutto lo stesso, le modalità della camera siano tutte le stesse, questa fotocamera ha un grosso difetto e non è la stabilizzazione in body, bensì è la batteria. Nel momento in cui andiamo a prendere questa fotocamera non abbiamo la stessa batteria, bensì abbiamo una batteria più piccola. La potenza dichiarata è sostanzialmente la metà, quindi avremo una durata di batteria che è la metà di quello a cui siamo abituati su mirrorless che già era due terzi di quello a cui eravamo abituati su reflex. Quindi la batteria è sicuramente il punto debole di questa fotocamera, ma proprio senza dubbi. Qualcuno mi dirà il joystick, qualcuno mi dirà il doppio card slot. Quelle sono cose su cui io passo tranquillamente sopra perché io lavoro anche senza il joystick, soprattutto perché abbiamo un touchscreen che mi permette di fare tutte le stesse cose e molto di più di quello che facevo sul joystick. Il doppio card slot poi non ne parliamo neanche, ve l'ho detto mille volte, dipende da quello che fai. Ovviamente se scatti Formula 1 a livello professionale mi rendo conto che avere il doppio card slot è una sicurezza in più perché se stai facendo il finale di Gran Premio magari bollirti la memory card perché hai riempito il buffer e avere la memory card che ti crash e ti esplode proprio in quel momento non è bello e da evitare, lo capisco. Non è quello che faccio io, io non scatto mai raffiche, non affatico mai le mie memory card e quindi io non ne ho mai bruciata una. Quindi dipende molto da quello che fai. Per cui ripeto, ovviamente in certi contesti mi rendo conto che serve il doppio card slot. Fatemi sapere in un commento se voi scattate in un contesto dove vi può servire una feature del genere. A me non serve assolutamente a niente e quindi ne faccio anche a meno. La batteria è una bella spada di Damocle perché in quel momento se tu mi dici che io ho meno della metà della batteria a cui ero abituato su reflex, questo è un problema. È un problema per me. Attenzione, bisogna anche dire una cosa. Con questa nuova generazione di fotocamere mirrorless noi abbiamo la possibilità di collegarle direttamente alla corrente, cosa che prima non avevamo. Ho fatto un video in tal senso in cui vi parlavo del cavetto adattatore USB-C, ve lo lascio linkato in card. È semplicemente un cavo che costa una bella badilata di soldi, però è un cavo che io ho acquistato perché lo uso, sto usando anche adesso, sulla Canon EOS R7. È un cavo con cui noi possiamo attaccare alla corrente del muro la nostra fotocamera e quindi andiamo a prolungare la durata. Ovviamente se stiamo scattando in interni con camera fissa la cosa è fattibile. Stiamo scattando in esterni col gimbal e non è fattibile usare questo sistema. Quindi comunque se siamo fuori, all'aperto, situazione run and gun e non abbiamo la possibilità di attaccarci alla corrente, è e rimane un problema. La durata della batteria di Canon EOS R8 è un problema per come la vedo io ed è l'unico motivo per cui posso essere indeciso se andare diretto su R8 o se rimanere su R6 Mark II. Posto che, attenzione, io non possiedo nessuna di queste due fotocamere al momento perché ho acquistato Canon EOS R7 con cui mi sto trovando da Dio, ma veramente da Dio, continuo ad adorare questa camera, posso pensare di andare a prendere una fotocamera un pochettino più prestante da affiancare alla mia 5D Mark IV e alla mia Canon EOS R. Lo faccio più avanti, ovviamente, in un secondo momento, anche perché voglio vedere bene quando esce questa camera, se tutte le specs sono confermate, se c'è qualcosa di più, se aggiungono qualcosa, se ci sono aggiornamenti firmware. Voglio capire un attimino. Però rimane il fatto che questa è una fotocamera molto interessante perché come fascia di prezzo si colloca bene al di sotto di Canon EOS R6 Mark II e quindi è interessante perché, posto che la batteria non è la stessa, però uno potrebbe dire io la uso in studio, sono tranquillone, posso attaccarmi alla corrente, risparmio un sacco di soldi prendendo la R8 invece della R6. Risparmio veramente un sacco di soldi. A questo punto sarebbe superiore anche alla R6 Mark I, sarebbe inferiore soltanto alla R6 Mark II e vabbè alla R5 e alla R3, però è una camera che si posiziona molto ma molto bene, ha delle specs che sono veramente veramente strafighe. L'unico problema che ha è proprio, a parer mio, quello della durata della batteria perché per il resto è veramente un carro armato di fotocamera e, pensate, pesa meno di una EOS RP, quindi è piccola, è molto compatta. Una genialata che hanno fatto, questa veramente è una genialata, sono veramente contento che abbiano introdotto questa cosa. Siccome sti corpi in macchina stanno diventando via via sempre più piccoli, io la odio questa cosa. A me piaceva la 5D, grossa, santo cielo, mi devi riempire la mano, io voglio sentirla quando scatto. È come uno strumento musicale per me, la voglio sentire che vibra. Con queste fotocamere mirrorless sono così piccole che via via ti sfuggono di mano, stanno diventando dei temperamatite. Su Canon EOS R8 ho visto che hanno aggiunto la possibilità di attaccare un fondello, quindi fondamentalmente un grip a vite, che non ti dà la possibilità di scattare in verticale, non ha bottoni in più o cose del genere, ma è semplicemente un estensore in maniera tale che tu non la tieni più con 3 dita, quella maledetta mirrorless, ma finalmente la tieni bene con 5. Ora devo dire, Canon EOS R7 io mi trovo abbastanza bene perché comunque la impugno decorosamente, il mignolo non scivola fuori, è quella via di mezzo che è proprio al pelo, però avere la possibilità di avere un estensore, un fondello che ti allunga il grip è veramente oro, bravi per averci pensato, probabilmente hanno guardato i miei video in cui continuo a lamentarmi del mignolo che scivola fuori. Bene amici, non voglio farla troppo lunga, anche perché non ho sample da farvi vedere, non ho la camera in mano, volevo soltanto condividere con voi questo aggiornamento, aggiornamento di cui sono veramente molto contento, aspetto di vedere questa fotocamera nei negozi, spero di essere un po' lungimirante e di darle modo quantomeno di toccare gli scaffali del negozio prima di prenderla e portarmela a casa subito, perché obiettivamente a me non serve questa camera, non mi serve, faccio già tutto con quello che ho, non mi serve. Però è una tentazione molto forte, veramente molto forte, perché portarsi a casa per quel prezzo, tutto quel pacchetto con dentro tutte quelle tecnologie, è veramente una tentazione, una tentazione forte, non ve lo nascondo, e quindi seguiranno degli aggiornamenti nel caso, però io a questo punto voglio sapere nei commenti, voglio sapere voi che cosa ne pensate, state valutando un modello di questo tipo, preferite la R6, preferite la R6 Mark II, siete fortunati possessori di una R3, fatemelo sapere nei commenti e con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!